Saluto a tutti gli amici di newsgib.it, eccoci qui con Huawei MediaPad X1, un terminale da 7 pollici full HD, interamente made in Huawei, un terminale veramente impressionante, lo paragonano all'iPad mini ma sicuramente questo è qualcosa di più piccolo e forse di un po' più performante anche a livello hardware. Vediamo subito una quad core da 1.6 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di storage, 1920 x 1280, insomma un ottimo terminale molto fluido, non ha il menu di applicazioni come potete vedere, si presenta molto bene come terminale, insomma anche la difficoltà dello stand per guardarlo non permette di vedere moltissimo, ma comunque insomma il terminale è questo in sé. Abbiamo un jack per le cuffie da 3.5 qui in alto, poi un microfono primario, sul retro una fotocamera da 13.1 megapixel, eh sì, una fotocamera da 13.1 megapixel che si comporta benissimo con questo terminale. Abbiamo detto andiamo ad aprire qualche cosa carinissimo come terminale, potete vedere che rispetto agli altri terminali è molto più sottile qui sul bordo, quindi riesce ad utilizzare veramente un... riesce ad utilizzare tutto il display e quindi ha una maggiore superficie d'utilizzo. La batteria, come batteria abbiamo una 4800 mAh che deve garantire una lunghissima durata e quindi permette di godersi al meglio il terminale. Insomma amici di newskick.it questo è tutto per il momento, un saluto a tutti, ciao!